Vieni te adesso Stai firmando? Sì, sì Ok Dai Marco Pronti Pronti, pronti Nuova estrema, nuova estrema, qua siamo a Che mutuo Eh? Fai i soldi Fai i soldi Gavaro 2T Gatto Hai fatto? Non dire che non hai filmato Non lo so No Non lo so Ma donna Melio non lo so No questo è il filmato oh ok vai su ok adesso sali un po più forte un po più forte devi bene vai marx bravo, bravo, bravo bravo, bravo bravo bravo